Si sono presentati questa mattina davanti ai cancelli di Arsero Mittal i commissari straordinari dell'ex Silva che avrebbero dovuto effettuare una visita ispettiva. Tentativo fallito poiché gli uffici aziendali erano chiusi in concomitanza con la festa nazionale del 2 giugno. Arsero Mittal conferma però la sua disponibilità a concordare una data successiva per svolgere le ispezioni commissariali. Si sono venuti a controllare dopo una nostra denuncia sarebbe la prova provata che in questi mesi avevamo ragione a dire che è stato lasciato mano libera a una multinazionale che ha fatto quello che voleva. Spero che non sia così, che invece loro siano valutando altre questioni e quello che sarà soprattutto il domani. Qual è il futuro di questo stabilimento? Qualsiasi futuro esse sia noi vorremmo finalmente parlarne, vorremmo finalmente parlare e trovare una soluzione. Se bisogna cambiare lo stabilimento e noi pensiamo che bisogna cambiarlo e innovarlo, questo continuiamo a dirlo non deve essere a scapito del lavoro, della salute e soprattutto dei lavoratori che stanno pagando un prezzo già troppo alto. Arsero Mittal continua a trincerarsi dietro il Covid, non ci sono manutenzioni ordinarie e straordinarie, c'è un uso spropositato della cassa integrazione con picchi del 90% e tra l'altro la stessa Arsero Mittal non è disponibile a un'integrazione salariale che l'abbiamo chiesta durante l'incontro e per cui non c'è stato ovviamente un verbale di accordo perché oltre all'integrazione salariale abbiamo chiesto anche ad Arsero Mittal di mettere in campo quelle che sono le rotazioni per cercare di dare sollievo ai lavoratori. Abbiamo anche detto ad Arsero Mittal che siccome dagli ultimi DPCM c'è la possibilità dello sgravio dei contributi di trovare qualche sistema in maniera tale che questo sgravio potesse andare nelle tasche dei lavoratori. C'è una situazione anche indescrivibile nell'appalto, vogliamo capire qual è il futuro di questo stabilimento e le risposte devono arrivare da Arsero Mittal e dal governo italiano che tra l'altro con Arsero Mittal e con ilvene amministrazione straordinaria si è reso partecipe di un accordo siglato il 4 di marzo che il sindacato non ha mai conosciuto e che tantomeno preventivamente è stato mai consultato.